Juventus in Champions League, tutte le combinazioni possibili! Il 22 maggio è una data che resterà ben impressa nella testa dei tifosi della Juve. In appena tre ore i bianconeri sono infatti passati dalla seconda alla settima posizione in classifica a causa dei dieci punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale per il caso Plus Valencia e a causa della pesante sconfitta per 4-1 ad Empoli. A due giornate dalla fine, però, la vecchia signora può ancora sognare un posto tra le prime quattro. Sono due le combinazioni possibili. Vincendo con l'Empoli, la Juve avrebbe avuto in mano il proprio destino, quinta a meno due dal Milan, ma con lo scontro diretto da giocare domenica. A caso della sconfitta, dovranno invece incastrarsi diverse fattispecie. Innanzitutto, Atalanta e Roma, rispettivamente quinta e sesta, non dovranno fare sei punti nelle ultime due giornate, mentre la Juve dovrà obbligatoriamente conquistare sei punti. Verificata questa condizione, allora si aprono due scenari. Battendo il Milan con solo un gol di scarto, la Juventus andrebbe a meno due dai rossoneri, ad una giornata dalla fine, ma a caso della sconfitta per 2-0 dell'andata, i ragazzi di Allegri sarebbero sotto negli scontri diretti. Quindi, il Milan dovrebbe per forza perdere contro l'Ellas Verona il 4 giugno, finendo sotto di un punto in classifica. La seconda opzione riguarda una vittoria con due o più gol di scarto contro il Milan. In questo caso, i tifosi della Juventus potrebbero sperare anche in un pareggio tra rossoneri ed Ellas all'ultima giornata. Perché finendo a pari punti con il Milan, la Juventus sarebbe quarta per differenza reti. Tifosi della Juve, credete ancora al quarto posto?